grazie a tutti 107 a parte che non c'è più di 10 mi sembra che finisce a 8 ma rimane così igai non animono demonai igai 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 no mono non animono demonai un po' più lungo igai non animono demonai allora meiwaku parola poi le parole che si trovano insieme non ne conosco neanche una bene meiwaku muri lo so intanto scrivo quelle che so con nichiwaku e con bawa prima scrivo quelle che non conosco quelle che non conosco le cerchiamo insieme questa non la conosco allora meiwaku lo conosco meiwaku meiwaku poi abbiamo muri no muda o muri muda 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 ijo ijo e l'altro non lo so me lo invento ijo diciamo jiko manzoku jiko manzoku non è cos'è jido giusto jiko manzoku o jinko no dovrebbe essere jiko perché non vi esce jiko manzoku un anima cikateru vikyo non mi esce niente sto stronzo igae non amore vuole neonai ok però devo cercare tutte queste parole qua che non me ne esce una bene siamo bene 2-2-1 kyo ha ni ni kai me no ni juici au karaddeska ni juici angelact ni juici ji karaddeska annashi annashi ehm però ninnawa rensu rensu noshikata shina kereman ehm korei stolu sta ketainin do yu no mako nyongode google nantaka non me lo vedete non me lo vede perché c'è la c'è la onda allora abbiamo questo che se stesso lo sapevo è gico perché non mi esce ah perché scrivevo gico u invece è gico e basta infatti era gico e basta ehm ue dani ue dani ue dani ue dani ue dani buona pasqua comunque ehm non mi esce non mi esce non mi esce non mi esce ue dani 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 iniziamo bene con parto e non so leggere tutte le parole che vedo in teoria questa quale dovrei sapere ma pregiudizio enken no questa non la saprò proprio enken pregiudizio rischiamo di infondere enken me lo scrivo sotto e poi l'altra enken e ho pregiudizio ma è sentito in vita nuova quindi non potevo saperla non ho mai avuto dei pregiudizi Uzzu 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 scritto così Uzzu questo che è dolore Milano Karada Tokio Ska Kainai Tokio Ska Dove ho Kainai mhm 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 questo qua è il Tokyo Tokyo Kaineda Aneda Aneda Mora adesso stiamo parlando degli aeroplani Strano no sta chiedendo Tokyo eh come si chiama eh Chocobin c'è solo da a ah come si chiama Anarita c'è anche Aneda no? Aneda Tonarita adesso e oggi sono più rinconi cioè ieri poi non capivo assolutamente niente vabbè ste parole qua sono andate in vita mia pregiudizio e vabbè questo qua dovrebbe essere dolore Daniele oei Ugozaimasu Daniel san auguri di buona Pasqua e anche mister Joe eh pregiudizio me lo scrivo lì sotto parole che non conosco dai scrivimi pregiudizio questo qua è il Kutsu Joku lo dovevo sapere provare Kutsu faccina sull'orlo delle lacrime Osaka ma non è questo non è questo non è questo dolore ok quindi queste due me le devo segnare che non le so eh Jiko Manjoku si si no ma che perchè lui è di Osaka voleva sapere se c'era Osaka ma non c'è ooooh ooooh Ijo Shiki cosa significa non mi esce perchè non mi esce Ijo dovrebbe essere non normale non mi esce mi esce questa parola vabbè dopo la cerco con calma ma su ma su su ma su nel u ti mi esce questo è veramente così è veramente così Fukai Nakimokiyo Arawasuku ok 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 adesso Adesso comunque io faccio una fatica boia, soprattutto nelle lezioni di dizionario. Orgoglio e pregiudizio mi sembra un titolo di un romanzo di Jane Austing. Faccio fatiche e ultimo questa non riesco a tradurla. Allora, questo qua è dare fastidio. Questo qua è impossibile da fare. Questo qua dovrebbe essere una cosa non normale che non riesco a tradurre. Questo qua è essere soddisfatti di se stessi. Cioè quando parli di te stesso e basta. Perché dici io sono bello, io sono fico. Questo è pregiudizio e questo è dolore. Conna cura, conna kudaranai, kudaranai è stupido. Conna kudaranai bangumi, questo programma è stupido, bangumi. Anche perché usano parole che non uso neanche in italiano. Insomma mancano in italiano parole, quindi faccio una fatica boia. Ma il dizionario che dice? Eh, dicono parole... No, no, non il dizionario, come si dice. Eh, il dizionario tipo Ijo, e questa qua non riesco a trovarlo. Ijo dovrebbe essere non normale. Però i joshiki insieme non lo trovano. Cioè queste lezioni qua, dico, che usano parole che io non... Cioè a parte che mi mette kanji che non conosco e parole che non conosco. Quindi doppia difficoltà. Cioè se almeno dici, vabbè, conosco il kanji solo da imparare la nuova pronuncia, invece no, devo imparare sia la pronuncia che il kanji, quindi faccio fatica. Però ce la faremo. Troppi avanzate. Sì, sì, troppe. Cioè per me sì, troppo avanzate. Ma vabbè, per quello che sto studiando. La grammatica no, ce la si fa. Però le parole sono difficili. Però siamo qui apposta per studiare, lo faremo. Ma cos'anno è scappata? Ma cos'anno quando serve non c'è mai. Gikan non muda, tempo inutile. I gai... È solo tempo sprecato sarebbe, però si dice in questo modo lunghissimo. I gai nani mono... Nani mono... Nani mono... De mo nai. Figa, un po' più lungo. Allora, Con la kudaranai bangumi o miru no wa, Gikan non muda, I gai no... Nani mono de mo nai. Allora, guardare questo stupido programma è solo una perdita... Quando deve urlare urla. È solo una perdita di tempo. Quando devi fare rumore, fai rumore. È soltanto... È soltanto o solamente? È soltanto... Una perdita di tempo in quel caso. O soltanto un qualcosa. Mazuha... U2, karaoke. Capisci karaoke? I do e bu... Muda lo conosceva anche una tecnica usata nell'informatica. Muda lo conosceva anche una tecnica usata nell'informatica. Muda significa... È una cosa che non è possibile fare. Mazzio. Allora... Karaoke de... Eta na uta... Eccolo qua. Karaoke... Karaoke de... Ai karaoke... Karaoke de... Se canti male ti picchiano tutti. Eta... Eta na uta... Essere... Non essere capace a cantare... O... Kika... Kika sa... Reru no wa... Kuzu... Kuzu... Però dovrebbe essere... Non è il mal di testa e il dolore. Basta. Igai no... Figa. Kuzu Igai no... Nanani monodemonai... Figa. A parte che Kuzu l'ha scritto sbagliato. Kuzu... Ah, sono io che lo scrivo sbagliato. Kuzu. Ok. Karaoke de... Eta na uta... O... Kika sa... Kika sa... Reru no wa... Kuzu Igai no... Nanani monodemonai... Allora... Al karaoke... Farti sentire uno che canta male... Praticamente che uno stonato... È solo... È solamente un dolore. È soltanto un'agonia. Noi diciamo... Di solito diciamo... È soltanto un'agonia. Però... Conna Yonaka ni... Sojiki... Questa è mia moglie. W. Conna... Ido... Conna Yonaka... Qua è Watashi no Tsumana? Conna Yonaka ni... Sojiki... Sojiki... Uo Kakeru... Nante... Nante... Meiwaku... Igai... 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 Igai no... No... A parte che ho scritto Igai sbagliato... Ehm... Dove cacchio è... Igai... No... Ehm... Nanani... Mi viene strano da dire Nanimono... Mi viene da dire Mono... De Monoe... Ok... E anche questa l'abbiamo fatta... Passare l'aspirapolvere durante la notte... La lezione oggi è cattivo troppo XD... La lezione oggi è cattiva... Esatto... E' cattivissimo lezione... Allora... To itte mo... Kagon... Kagon... Non so neanche cosa significa... Però mi strano un po' mi scappa... Il Kagon... De Wonai... To itte mo... Ogesa... De Wonai... Allora... Yo Kayanda... No Nayo... Arawasu... Non... Sarebbe... Non ho altre cose da dire... Non ci sono altre cose da dire... To itte... Non si può dire altro... To itte... Però lo dico in un modo assurdo... Mo... Kagon... Kagon... Kitakotonai... De Wonai... Questo è quello di Sugiru... E questo è quello di dire... To itte... Allora... Abbiamo Futsu... Più che... De Wonai... O poi abbiamo... Kagon... I temo... De Wonai... E l'altro... Scusate... Ah no... Allora... Verbo e nomi normali... Quindi non c'è nessuna regola... Più quella era lì... Uno... Che dovrebbe significare... Non ho altre cose... Non ci sono cose da aggiungere... Non si può dire nulla... Cerchiamo Kagon... Cosa significa... Magari ho significato... Mi sono Kagon... Adosso... Allora... Dire troppo... Fare una gaffa... Esagerazione... Ah... Dire è... Non è un'esagerazione... Non è esagerato... Dire che... Non... Eh... Bello... Scritto così... Non è... Non è... Una... Esagerazione... Dire che... La trova... Vedi... L'italiano è più lungo... Kagon... Questo me lo segno... Perché è la prima volta... Che mi Kagon... Adosso... Mazzu... Conoshosetsua... Questo romanzo... Conoshosetsua... Bello... Scritto così... Conoshosetsu... Ma... Oggi non riesco a scrivere... Non è che gli altri giorni riuscivo a scrivere... Però... Conoshosetsua... Kanojo... Kanojo... Che è lei... E non è lui... Kanojo... Su Sword... Su Sword... Si combatte... Ho fatto quattro personaggi a livello 1000... Continuo a combattere per il bene dell'umanità... Che poi mi dice... Cosa serve? Un cacchio... Il gioco è finito... Però devo sconfiggere 5 mostri... Che se non vado lì con super power up... Mi rompono... Il discorso è solo quello... Ho fatto quei 5 video... Oggi forse era meglio riposare... Non guarderà nessuno... No... Io non riposo mai... Il riposo è per i deboli... E in più oggi faccio anche la lezione ai ragazzi... Kanojo no... Saiko... Saiko... Che Saku... È la sua migliore opera... Che Saku non si scrive così... Invece sì... Cacchio... Scusa che Saku non conosco il kanji... Questo kanji non lo conosco... Oggi è il momento di combattere... Che Saku... To... Mi temo... Anche perché magari domani non ci sarò... Quindi lo faccio oggi... Kagon... Me lo potete dire... Ha lottato fino alla fine... Kagon... Ma non mi esce Kagon... Ma non mi... Qualcuno mi aiuta... Non riesco a fare il Kagon... Kagon... Pessimista... E io sì... Io sono sempre stato pessimista... Infatti tutti mi odiano... Perché penso sempre male... Però alla fine... Ho quasi sempre la ragione... Allora... Che Saku me lo segno... Perché la parola... La Soma non... Il kanji non me lo ricordo... Quindi me lo segno giusto per me... Con lo Shesetsua... Questo romanzo... Non è un'esagerazione... Dire che è la sua migliore opera... Ok... Che Saku dovrebbe essere opera... O scrittura... O libro... Masterpiece... Sì... La sua migliore opera... Il lago che fa il Kagon... Chi... Chi m'ha sciulgato il Kagon... Mako Kagon... Cosa significa? Come ho accanto... Kagon... Cosa significa Kagon? Mi dice Kagon Kagon Kagon... E se ne va... Vabbè... Allora... Niju Dai... Che è Atachi... Comunque... Però Atachi Jidai... Non si dice... Quindi scrivo Niju... 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 Niju Dai... Quando avevo vent'anni... Niju Dai... Zen Han... Niju Dai... De... De... Ok... Nju... Tsukuta... Aveva costruito una azienda... Tsukuta Karewar... Non è un'esagerazione dire che la testa mi diventa strana in questo momento quando c'è il corona scritto. Buongiorno Tommy, buona Pasqua. Mi hai portato l'uovo? De uova? Ma qua Tsukuta la mettiamo senza questo. Sì, a parte la vita, tutto bene. Tsukuta, Karewa, Tensai. Buongiorno e tanti auguri di buona Pasqua. Tensai è come me. Bello il pulcino che esce fuori dal... Tensai to ite mo kagon... Ma fai il kagum! Kagon de wanaidaro. Allora, non è un'esagerazione dire che è un genio. Allora, lui ha fatto questa azienda nella metà dei primi vent'anni. E non è un'esagerazione dire che è un genio. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie. Anche a qua. Tanti auguri a te, chi lo sa perché. Kare no Kenkyu, la sua ricerca. Kenkyu. Kenkyu. Io ero contento che pensavo di sapere in Giappone. Se serve ti passo la carta igienica. E poi, se serve ti passo. Bella con il fiocchettone. Mako, c'è la carta igienica, vieni a vedere. Mako è troppo impegnata a fare 1 più 1 su Excel. Masani. Masani. Non guarda, è impegnata. Quando chiedi che hai bisogno di lei, sempre impegnata. Cirio. Sempre sciperi, schiaccio CHI. Cirio. Cirio. Curani. Questo non lo so. Kakumei. Questo me lo devo segnare. Kakumei, non lo so. Questo kanji qua. Mei è vita. Questo non lo conosco. Quindi questo me lo segno. Kakumei o o costa. O costa. O costa. Non ho messo il kanji. Tanto lo scambia per gioco e le emoti. Che senso? Tanto lo scambia per gioco e le emoti. Ah sì, è vero. Perché Mako associa le emoti con le persone. Toitemo. Sta calcolando gli interessi del suo conto giapponese. Eh, esatto. Il mio conto giapponese. Kagonde Wanai. Allora, tac. Mi devo segnare. Questa parola qua non la so. La cerchiamo tutti insieme. Lo hacker che bontà. Kakumei. Questa non la conoscevo. Cioè non la conoscevo. Non lo so. Questa è cura. Tu so tutto tranne Kakumei. Invece ieri praticamente non sapevo niente. No, è vero. Rivoluzione. Rivoluzione. Ah, è vero. Mako sta facendo la live. Deve far la live anche lei. E non ho capito il senso. Allora, la sua ricerca non è un'esagerazione dire che ha fatto una rivoluzione nella cura del cancro. No, è per i bambini su Zoom. Sta facendo la, diciamo, la messa. La voglio vedere. Non puoi vedere. È su Zoom. È solo tra di loro, quelli della chiesa. Allora, Carino Kenchio. Ah, sono Ito 4. Ok. Sono Ito. A parte che l'hai già vista, perché non ve l'ho fatta. Vedremo ecco qua. A parte che se all'altro giorno si è fatta vedere lei mentre le riprende voto, ora si è messa davanti. Tai Su Ru. Kion Te Chi. Basilare. Kion Te Chi. Na. Yoka. Valutazione base. Qua. Agimete. Agimete. Atta. Pochi. Questo è quello che abbiamo fatto nella lezione l'ultima. Non c'ero, non è giusto. Eh, come non c'eri? Allora bisogna recuperare. Se hai visto il lato B. Sì, esatto. E si è fatta vedere il Chi. De. Infatti gli ho detto, Marco guarda che sei, ti stanno guardando il culo. E però lei non gli fregava niente, le stava facendo la foto. A che ora è apparsa? Eh, boi, mi ricordo. Penso che era ieri o l'altro ieri. Il Temo. Kagon. De One Eye. Io ero convinto che era ieri, però magari tutti i giorni per me sono uguali, quindi potrebbe essere vero come potrebbe essere il nome. Sono Itonitai, Surukion, Tekina, Yokawa, Ajime, Teata, Tokino, Inshode, Obo, Kimaru, Toitemo. Allora, la valutazione, diciamo media di quella persona, non è un'esagerazione dire che, vabbè, almeno studi. Non è un'esagerazione, ti ricordo che quella di ieri era tre ore. Non è un'esagerazione, mi sa che è però quella di due giorni fa, non di ieri. È un'esagerazione dire che viene decisa dalla prima volta, cioè dall'impressione della prima volta che viene incontrata. Fige. Difficile sta frase. Si incrocia la lingua. Allora, andiamo avanti. Comunque non è lunga questa lezione qua, ve lo dico perché ho già finito la pagina, sono già l'altra. Sì, due giorni fa. Sì, due giorni fa. Ok, inizio con quella di venerdì. Non mi ricordo che giorno era, però. No, pensi di giovedì, non venerdì. Ieri era sabato. Oggi è domenedì. Sì, sì, no, è venerdì. Non so più che giorno è. Nicosta Stavo riprendendo Tora, quindi lo vedo. Oggi è domenica. Esatto, grazie. Si vede che non capisco più che giorno è. Nenokosta o anai Nicosta o anai Surunoga besto Sarebbe meglio fare ciò. La migliore scelta La migliore cosa da fare. E sarebbe anche Pasqua. No, quello me lo ricordo, però non mi ricordo che era domenica. E tu dirai, ma Pasqua è domenica? Eh sì, ma non me lo ricordo. Allora Verbo in forma RU che significa dizionario O verbo nai per gli amici Poi mette aggettivo a o aggettivo nai Quindi aggettivo na o aggettivo nai Che sarebbe l'aggettivo Quando metto solo la è l'aggettivo Io non sto a scriverla lì perché non c'ho voglia Buongiorno Alex San Buongiorno Massi e buona pesqua Buona pesca Allora, nome E aggettivo na Quindi questo nome E Aggettivo na Buona Pasqua anche a voi E aggettivo na Abbiamo de haru Denai De haru Denai Più Ah però bisogna aggiungere cotò E poi hai tutta la pappardella Poi abbiamo Aggettivo na e basta Invece ci abbiamo Allora con l'aggettivo na e negativo Invece è diverso Fighe che bordello però Cioè ci sono due modi con l'aggettivo na Max Sarebbe Nai Pasqua Faccina sull'orlo delle lacrime Io cuoto E più tutto il resto Pasqua tenioni E noi carai Italia Gini Totte donna kanji No She Donna kanji Ga oscite Kodosai Futsu wa Kamisama wa Fukatsu Futsu shi Dakara Mienna Eeeh Innotteru Janna Credo io No Eeeh Inma Cotoba denai Kedosonna kanji Kedos Mienna wa Buongiorno Mister Gio Buona Pasqua Eeeh Cioccoleto Nanno Nanno Imi De Eeeh Eeeh Tamagono Chocoleto Tabetteru No Sare Wakaranai Kedos Hontano Imi Wa Kamisama wa Kyo Fukatsu Shih Dakara Mienna Innotteru Zanakte Kedos Iro Kondero Tekandji Kedos Kodoba denai Kodoba Haruki Haruki Gassuru Kedos Ima Kujikara Dela Renai Non è festeggio Cos'è che si dice Non è festeggiare La Pasqua O essere O pregare Com'è che si dice Ringraziano il giorno Che Eeeh Rinato Gesù Si celebra Celebrale Celebra Is it Celebrate Can you celebrate Buongiorno Mako San Can you kiss me tonight We will have long long time La canzone giapponese La resurrezione di Gesù Cristo Esattamente Che poi Ma il motivo per cui si mangiano le uova di Non l'ho mai capito Infatti gli ho detto Non capisco perché la gente mangia le uova di cioccolato Perché in teoria non c'entra niente Però Allora Sutsuke Ah no Poi abbiamo Noi troviamo con le parole Aiai Veloce come me Aiai 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 Yasui Che è economico Yasui Shin No Shin 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 Si dice No sarebbe Shin Pin Sono fuori di testa Shin Pin è nuovo Questo Io Questo non lo so Yoshi Prova a scrivere ma non lo so Yoshi No me lo sono inventato Non è Yoshi Cacchio Eh Yoko Koro si è io coccoro è una commercializzazione forse perché le uova sono simbolo di nascita e non perché ci vogliono ritirare un sacco di uova che non se ne facevano ma di oggi in si dice questo qua io oggi attenzione oggi in questo modo da segnare gli oggi ne far attenzione ce l'ho scritto lo stesso però si dice io però non esce oggi mi piglia per il culo noi oggi voglio a queste cose ci ho creduto sempre poco e lo so però è giusto per capire perché perché mi ha chiesto perché glielo sto spiegando è una cosa legata alla religione è come il natale tipo in natale in giappone loro lo festeggiano come se fosse san valentino trovano con la fidanzata e vanno fuori a mangiare si scambiano il regalo e non avendo la questa religione non lo vivono come la viviamo noi come noi non viviamo il loro capodanno e loro festeggiano il capodanno come voce fosse nata sutsuke izuаться a karuì ni cesu sussukesu sussukesu sa con la valigetta dunce il tornare è Carui leggero, Ni costa, già non usa lei, ah no, Ni ce l'avevano, Ni costa, Koto, One Eye, sarebbe meglio che ti porti una valigia leggera, Kedo, c'è sempre un Kedo che è un Ma, Jobu, Jobu è forte o strong o resistente, De, Nakereba, Komaru, ma deve essere resistente se no sono cavoli amari, Komaru. Potrei una domanda, come si distingue parere e sembrare? Eh, bella domanda, Muzukashi, sembrare è mitai, parere è niteru, Kedo, Daitai è una generale, Tutsuke, Nihon, Toshite wa niteru to mitai, Tekanji. Sutsuke wa ni costa Koto, One Eye, Keto, One Eye. Mazuha, Tsumademo Mazuha, Tabacco wa kenko ni waruishi, fumare fa male alla salute, Okane, Okane mo kakaruishi costa anche soldi, e ci guadagna lo Stato. Yameru, Yameru è smetterla, Yameru ni costa Koto, però suona di merda, no? E le ho sempre detto. Costa Koto One Eye, questa è la classica frase. Tabacco wa kenko ni waruishi, Okane mo kakaruishi, Yameru ni costa Koto One Eye, le sigarette fanno male alla salute e costano soldi, la cosa migliore sarebbe smettere. La cosa migliore, la miglior cosa, vabbè, la cosa migliore, guarda, è giusto, sarebbe smettere. Yoh, no, Yoh è fuori, Yoh non è nella regola, Yoh è il punto esclamativo. Tre, Tenki, Tenki Damar, Tenki Yoho, Tenki Yoho è le previsioni del tempo. Wa, Ichinichi, Ichinichi, Kumori, Kumori, che si dice che tutto il giorno è le nuvoluzze d'Akedo, ha detto che sarebbe stato nuvoluzzo tutto il giorno, invece, Yoh, Shin, Yoh, Shin, Suru Costa, ah, e dice di fare attenzione di portarsi l'ombrello, io ho detto Yoh, Jin, Yoh, Jin, Suru, Ni, Suru si può mettere come si può non mettere, Suru, Ni, Costa, Koto One Eye. Mi pare che lui sia malato e mi sembra che lui sia malato sono uguale. Nitero, so, so, doci de mo' zucairo. Ma ci è il? Mi sembra, allora, mi sembra malato a care wa bioki mitai, mi pare malato nimiero. Anata wa care wa bioki nimiero. Sembra malato wa, care wa bioki ni, bioki mitai. Eh sì, ma per me sono uguale. E allora spiegagli, io gliel'ho spiegato in giappone. Ho letto, come dice Mr. Joe, è la simbologia della nascita rafforzata poi dal fatto che con la nascita della quaresima non sapevano più cosa farsi delle uova delle galline, le facevano cuocere fino a diventare dure e le decoravano. Eh, vedi che c'avevo ragione che le uova non sapevano come farci. Massi, dai, aiuta in parole semplici alla differenza tra sembrare e parere. Per me è uguale. Cioè, no, gliel'ho spiegato la differenza. Però, cioè, in giapponese gliel'ho spiegato comunque. Però io le uso nello stesso modo, parere e sembrare. Mi pare che sei stronzo e mi sembra che sei stronzo. È la stessa cosa. Come esempio, allora, Soria, cioè c'è una piccola differenza, ma infatti a uno gli ho detto parere è tipo niteru. Sembrare uguale. Invece... Fai come Maco che dice che non si dice o suona male. Sembrare è che ti sembra. Tu lo vedi che sembra così. Soria, scimpinico, sto accorto... Allora, scusate, non ho tradotto questa frase. Ah, no, non l'ho finita, per quello non l'ho finita e sono andato avanti. Non ho finito la frase. Oritatami, oritatami è l'ombrello pieghevole, tatami, oritatami, però non mi sembra che c'è così. Oritatami no kasa, che è il mio kanji preferito. O mottegita. Allora, Sarebbe meglio per sicurezza portarsi un ombrello pieghevole, quelli che si allungano e si stringono l'albero di Natale. Soria, Shimpin, nessuno aiuta il povero Beisa a dirgli la differenza. Shimpin è nuovo, Costa, Koto, Wanai, sarebbe meglio se lo prendi nuovo, ma, c'è sempre un ma, Chuko, Chuko, Costa, Rimengo, Chuko è economico, è il mio kanji preferito, Demo, Kama, Wanai, ma se anche se lo prendi, come si chiama, usato, non importa, Kama, Wanai, Sarebbe meglio che te lo compri nuovo, ma anche se lo compri usato, va bene lo stesso, si, Kama, Wanai, non importa, ok, allora, Buh, di Costa, Koto, Wanai, niente, qua abbiamo finito, devo scrivere tutta questa, ah, facciamo un colo, Allora, sembrare è più legato all'esperienza visiva, o di intuito parere, è più legato al ragionamento, Eh, quindi quello che avevo detto, io, sembrare, wa, nimiero, parere, wa, però sono simili, eh, nitero, sì, no, in giapponese gli avevo spiegato giusto, in italiano che non so parlare l'italiano, però in giapponese gli avevo spiegato giusto, ci gli ho detto due parole giapponesi, sì, no, no, quello sì, però il, eh, tra parere e sembrare, perché quando glielo ho detto in giapponese gli avevo detto giusto, ci ho fatto gli esempi giusti, quindi va bene, a te tai o? Caprone. Caprone, bravo, allora, eh, no, la capra la fa manco, di solito io no, allora, scriviamo tutta sta roba qua, questa qua sarà una lezione short, perché, uno perché c'è poco, e due perché poi oggi pomeriggio continuo, e poi dopo devo ripassarmi la lezione, perché domani devo fare gli esercizi, mi sembra, faccina che festeggia, faccina che festeggia, faccina che festeggia, e poi devo fare anche, adesso comunque quando faccio le lezioni, faccio il ripassone e le lezioni dopo, che sono un bordello, devo ripassare questo qua del dizionario, perché poi dovrò fare sta roba qua, che non guardo perché non mi va di barare, la guarderò quando la farò, e mi metterò a piangere, perché non mi ricordo niente, già non mi ricordo adesso, alle due come al solito, però devono correggere gli esercizi, poi se facciamo in tempo, facciamo la lezione nuova, la lezione nuova su che cos'è? Ah la lezione nuova, mi sembra che è su Teimas, mi sembra, la lezione nuova, bo 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 bo, che anche questa non me ne è che me la preparo prima, quando la facciamo la facciamo, qui dice, ah sì, Ame Gafu Teimas, sta piovendo, facciamo sta piovendo, sta andando, sto camminando, sto ballando, eccetera, eccetera, sì, solo quella roba lì, Teimas e basta, facciamo la Formate più Mas, però noi abbiamo già fatto la Formate, e quindi siamo, i numeri no, li abbiamo già fatti, cioè una parte, poi mano a mano che li troviamo, li facciamo, no, dobbiamo fare solo sta roba qua, poi noi avendo già fatto la Formate, che diciamo che era la cosa più difficile da capire, siamo già avvantaggiati, perché devono solo mettere il verbo Te, in Formate Mas, e hanno già finito, Daniele 95, fa il bravo, fa il bravo, fa il bravo, allora, mettiamoci i dratti, la penna, ah, devo cambiare la penna, grazie penna, ti ho voluto bene, kiss kiss, e goodbye, prendiamo le mie penne, mi hanno regalato i miei amicissimi, vediamo quanto tempo mi durerà questa penna, allora, grammatica, n1, Daniele 95, vieni su Discord, da fare gli esercizi, anche tu oggi, eh, ma lui non, non, non studia, è proprio, stronzo, lui dovrebbe essere quello che sa meglio di tutti, già poi c'è stato in tutte le lezioni, ma non studia, allora, lezione, certo, sicuro, lezione A8, in teoria dovrebbe, avere imparato anche per, come si fa, come se quelli che dormono e sentono il giapponese ripetuto negli orecchi, poi la mattina si alza e lo sanno, dovrebbe saperlo anche senza averlo studiato, per quante volte l'ha sentito parlato, i gai non animo no demonai, dovresti saperlo, esatto, la furia di sentirlo dovrebbe saperlo, non animo no, animo no demonai, è soltanto un cogliozzo, è soltanto, a parte che vi segno dove sto scrivendo, se no, i gai non, i gai non animo no demonai, cosa ho scritto qua, per fortuna rileggo, che sarebbe quello scritto sopra, senza i kanji, quindi parola più, i gai non animo no demonai, questo qua è mei waku, che è dare fastidio, mei waku, adesso guardo direttamente dal felixel, così, uno vedo se ho sbagliato, e due vedo se ho, se riesco a leggerle, mei waku, più, allora si usa con le parole, mei waku, muda, mei waku è dare fastidio, mei waku, mei waku, poi abbiamo muda, 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 mei waku, muda, non è possibile, o inutile, non ce la farai mai, muda, 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 e poi abbiamo i joshiki, mi trovate i joshiki, cosa significa, perché io non l'ho trovato, cioè o sono stupido, dovrebbe essere una cosa non normale, arigato noto ni memos te o boe, o boe, ma sta, allora, poi abbiamo questo che lo so scrivere, ma aspetta, ma è giusto? ah no, ho sbagliato a scriverlo, ecco perché non mi esce, niente, so stronzo io, my bad, ho sbagliato io a scriverlo, non è quello il kanji, ecco perché non mi esce, è questo, adesso lo so, infatti non lo trovavo, hai visto che è uscita la nuova serie dell'Accademia degli Eroi, sì, ho preso, però lo vedrò alla fine, irrazionale assurdo, ok, come solito, sbaglio a scrivere, poi infatti dicevano, ma non mi esce il kanji, cioè non capisco il significato, Ijo comunque è che non è un normale, è scicchi, è vabbè, è assurdo, hai inventato una nuova parola, eh no, è che non mi sono, no, mi pensa che quella era la parte che conoscevo, e l'ho scritta male, e non mi sono accorto che avevo sbagliato il kanji, e mi è rimasta sbagliata, però me lo scrivo che sono stronzo, Ijo, chichi, absurdo, devo scrivere anche Jiko Manzoku, essere soddisfatto, cioè, farsi i complimenti da solo, tipo, tipo, com'è che si dice quando ti dici, sono bello, sono figo da solo, boh, non lo so l'italiano, comunque quella roba lì, non è ragione che inventava le parole, poi abbiamo, autolodarsi, autolodarsi, esatto, quella roba lì, poi abbiamo, questo qua è nuovo, è quello che è quello evidenziato, enken, pregiudizio, questo non l'ho mai visto in vita mia, quindi non potevo saperlo, e qua vedete che il kanji di Miru si legge anche ken, ken, pregiudizio, tipo, qua ho qualche parola da scrivere, ieri tutte le parole che trovavo erano tutte nuove per me, cioè, quindi è stato un parto, visto il periodo anche incensarsi, incensarsi, cosa significa incensarsi, non lo so, allora, poi abbiamo, su, zu, zu, che dolore, su, zu, da incenso, ho sbagliato a scrivere, si, fati e kutsu, scusate, kutsu, u, dolore, gioca, henshin, chi è, chi è che ha fatto henshin, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho visto niente, grazie, ma non l'ho visto chi è stato, so che è uscito, ma io non l'ho visto, perché stavo guardando all'altra parte, ma grazie Massimiliano, allora, grazie Massi, hai regalato la sub a Joe, grazie, grazie Massi, Massimo XD, possiamo mangiare l'uovo sodo stasera, Marco, grazie Massi, allora, kutsu, dolore, poi, konna, kudaranai, bangumi, non mi ero accorto che era scaduto, uno, konna, kudaranai, grazie mille, a proposito, Dani, mi puoi cercare dove cacchio si mettono gli emoticon, che non riesco a trovarlo, perché so che ogni tot mesi cambia, vedete il pugno, vedete che il pugno, uno c'è la destra, uno c'è la sinistra, cambia in base a, però non so gli altri se li ho mai fatti o no, perché ho detto, tanto non c'era mai nessuno che ci scrive più di sei mesi, quindi mi sa che a sei mesi mi sono bloccato a farli, però non so, non li trovo più, devi avere i tot e sun, no, non cambiare l'icona, quello dei tot anni, cioè fare a sei mesi, un anno, due anni, quello lì ce l'ho, però non so dov'è, io mi sembra che ho fatto solo sei mesi, sicuro, perché vedi che il pugno di Gio è diverso da quello di Massi, uno è da un lato, uno dall'altro, cambia in base ai mesi di sub, solo che non mi ricordo gli altri dove li ho fatti, cioè gli altri se li ho fatti, dolore, dolore, doloroso, dolore, poi abbiamo, Conna Kudaranai Bangumi, questo programma così stupido, allora, guardare questo programma così stupido, è soltanto una perdita di tempo, grazie, sei molto gentile con me, papà, Conna, allora qua scriviamo, sono le icone delle sottoscrizioni, eh sì, ma dove cacchio le trovo, voglio mettere quelle nuove, aggiungerle, ma non so dove, Conna Kudaranai, ho cercato ieri, giuro che ho guardato, ma non ci ho capito niente, sono bravo a pc, ma su queste cose qua, social, non sono capace proprio, io le odio le cose social, sono un po' a social, basta, Omiru, Noa, ma qua scrive bene questa penna, Gikan, Gikan no muda, è solo tempo perso, è solo tempo sprecato, muda, muda, o tempo inutile, però sarebbe tempo sprecato in italiano, Gikan no muda, 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 Gikan no, Dani Mono, ma non ti preoccupare anche DJ Bagai, non lo sa fare nonostante il tempo che ci dedica, Eh no, ma anche, no, ma io non ci sono, non ne ho mai, insomma, sarò entrato dentro una volta sola all'inizio, quando mi hanno detto, fai così, e metti le icone, fai questo, fai quello, dopodiché non ci ho più capito, a che io devo tornare lì, Karaoke, Eta, Eta è uno che non è capace, Eta, Nauta, che sarebbe uno stonato, Eta, Nauta, quel cangi di cantare, Ci sono troppe impostazioni, Eta, Nauta, O, Kika, Sareruto, Kika, Eh ma vorrei capire, cioè non è che mi interessa fare i numeri, però almeno capire come si fa, di nuovo a finire che uno che si iscrive per un anno, ha il simbolo, quello, la base di, che mettono su Twitch, perché io non l'ho fatto, perché ho detto, tanto non c'era mai nessuno che si iscrive per un anno, e quindi non l'ho mai messo, perché sono pessimista, allora, Kuzu, Kuzu, perché Kuzu è scarpa, Kuzu, Kuzu Igai, no, Nani Mono, Nani Mono, Mono è quello di cosa, De Monai, se l'abbiamo fatto, ma non mi sembra, non mi ricordo, allora, Ascoltare uno che canta stonato al karaoke è soltanto un dolore, Passare la spirapolvere durante la notte è soltanto dare fastidio, Anata Gabenkyo, Anata Gabenkyoshteru, Tango, Tango, Ontoni, Idoi, Imi, Paccari, Soyo Koto, ha detto che, le frasi che sto studiando oggi sono, cioè, sono frasi dure, che, cioè, sono frasi cattive da dire alla gente, infatti in teoria non te le spiegano fino alla fine, Bronna, Yonaka, Yonaka è se vedete il kanji di notte, Yonaka, Yonaka, Ni, Sojiki è l'aspirapolvere, che è il fidanzato di mia moglie, Sojiki, 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 Kakeru, potrebbe passare l'aspirapolvere, Kakeru Nante, Meiwaku, Meiwaku, Igai, No, Nanimo, no, Igai, manca Gai, c'è quello di sotto, No, Nanimo, No, Nanimo, manca un segno, Nanimo, Demonai, Ok, Toitemo, Kango, non me lo ricordo già più, era Kango o Kago, come nel caso, Kangon, no, Kagon, come questo non lo scrive, K, Kangon, no, Kagon, non è un'esercizio dire che sono bellissimo, due, Toitemo, Kangon, è quello di Sugiru, o Sugosu, e questo è quello di dire che abbiamo, avete studiato anche voi, Yudewanai, comunque un sacco di roba adesso esce fuori anche qua, se notate un po' di roba, è riuscita a leggere, uno, Shosetsu, aiuto, mi è andata via la voce, non è un'esagerazione dire, non è un'esagerazione dire, non è un'esagerazione dire che aiuto, vado ad avere l'acqua, ma è un sacco, e anche la cosa, ci sonocilehovahltre, e quindi come stage 13, e quindi è un cuozucionare, lo spesso, che è tutto, ma è un ultimo capitale, noi siamo in baguino 잡아 e che sta portando a caricare, e questo, lo spesso aर, Paola, per la leva a cantare, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con lo Shosetsu, questo romanzetto, questo racconto, questo salcacchio. Con lo Shosetsu, perché ha mille significati, per quello lo dico così. E ha piacere. Con lo Shosetsu ha... Kanogio, che è lei e non è lui. Io ho sbagliato anche a scrivere Kanogio, complimenti. Kanogio no. Saiko, Saiko che è il migliore. Saiko, Kessaku, che non conosco la parola, ma non conosco il kanji, quindi me lo scrivo. Kessaku, non me la ricorderò mai, però vabbè, intanto lo scrivo. Per quello di costruire, to, itemo, itemo, kagon. Potrei altra come si distingue, servire e convenire? Convenire è... Convenire è Shira, non lo so neanche in italiano. Ma si aiuto, in parole semplici. Watashi wa Karanai. Convenire non l'ho mai usato in vita. Conviene? No, ma mi sa che non è conviene. Non esiste. Ah, non esiste. Conviene. Convenire esiste, Dani. Esiste convenire? Penso. O no? Ho scritto to itemo, tipo tante volte, kagon e devonai. Niente, ho scritto tremila volte la stessa parola. Allora, Conosho Senzu Hakanogeno, Saiko Kessaku, To Itemo, Kagon, Devonai. Questo romanzo non è un'esagerazione dire che è la sua migliore opera. Ma si è scappato. Siamo fottuti. Kessaku. Due. Gio, se ci sei ancora, aiutaci. Niju Dai Zen Han. Decore Dake no Kaisha Otsukuta Karewate. Insai to itemo, Kagon, Devonai. Allora, non è un'esagerazione dire che è un genio, perché lui ha alla metà dei vent'anni, a la metà dei vent'anni, sarebbe a venticinque anni, in teoria, ha costruito questa azienda. Niju Dai Zen Han. Due. Niju Dai. Qualcuno che sappia L italiano. Siamo rimasti solo gli e te, gli ignoranti. Ma, chiediamo a Marco, abbiamo solo Marco, come se. e... Ossietà conai, giunacate, o'on toni wakaranae, da carava, minna attaschete, kureyutte, 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 kureyutte. So, minna nigetà, te kangi. Dake no Kaisha. Tornato. Tornato, aiutaci. Leggi sopra quello che ha scritto Beysi, non so rispondervi. Non so l'italioso. Kutte. Kare. Kare watensai. Eccomi, mi è morto il cellulare. Questo è Joe in versione 2. Voi Joe. To it te mo. Sì. Tensai to it te mo. Tensai che è genio come me. Che serve? E lui dice... E lui dice... Conviene, conviene, o cos'era, o... Beysi aveva chiesto, aspetta, torno su perché non me lo ricordo. Ha chiesto... Distinguere fra servire e convenire. Non ho capito. Tensai to... E io non lo so, quindi aiutatemi voi perché... Non lo so, non è che non voglio rispondere, proprio non lo so. Non saprei come dirlo in giapponese, visto che non lo so dire in italiano. Servire si usa per una cosa che è utile, convenire si usa per qualcosa che è migliore. Ah, allora, servire va ben rinamono. Convenire è... Nohogai. Oh, Nikosta Kotovanai. Ce l'abbiamo scritto qua. Kocinogai. Te cangi. Grazie Massi. Adesso glielo ho spiegato. Prima era difficile, non sapevo l'italiano. Si usa per succare i cazzi. Ecco, beh, banna il coglione. Ciao. Ti saludi. Banna il coglione. C'è sempre un coglione. Anche a Pasqua. Sì, sì, convenire nel senso... Suraugai. Sì, sì, no, glielo ho tradotto giusto, Gio, grazie. Però non capivo la differenza, cioè non capivo come spiegarglielo. Quando ho messo la spiegazione mi viene più facile dirglielo, perché poi riesco a parlare. Allora, il temo... Sono perso. In teoria siamo qua. Il saluto, il temo, Kagon de Wanaidaro. Non sarà un'assurdità di dire che è un genio, visto che ha vent'anni ha fatto questa fantastica azienda. Kare no Kenkyu ha la sua ricerca. Kare no Kenkyu ha. Kare no Kenkyu ha Massani. Massani, Gun. Gun è tumore. Gun Cirio. Curare il tumore. Gun Cirio. Gun Cirio. Gun Cirio Ni. Questo qua non me lo ho già nominato. Kakume. Kakume. Già non me lo ricordo più, l'avevo tradotto prima. Perché non ho scritto che sono stronzo? Adesso mi tocca ricercarlo. Kakumei. O. Costa. Costa. Toitemo. Kagon. De Wanaidaro. Nagli. Non è esagerato dire che la... Ah, è rivoluzionario Kakumei. Me lo scrivo qua di fianco. Kakumei. Allora Kakumei era rivoluzionario. Allora, non è esagerato dire che lui è stato rivoluzionario, la sua ricerca è stata rivoluzionaria nella cura del tumore. Peccato che non è vero. Allora... Tre. Sono Ito Ni. Cioè tre, quattro. C'è scritto quattro. Sono Ito. La persona. Sono Ito Ni Tai Su Ru. Quello che riguarda quella persona. Ni Tai Su Ru. Kion Te Kina. È basilare. Kion Te Kina. C'è uno che ha la tosse. Kion Te Kina. Na, Ioka. Ioka è valutazione. Ioka. La valutazione... Ah, qua ho fatto un segno di che non devo fare. La valutazione base che fa lui... Non è esagerato dire che decide dalla prima impressione di quando ti incontra, che è quello che fanno tutte le persone. Arigato, con l'accento sulla U. Arigato Toki Mi Ni Iware Eru To Nanda Kase Tsunai. Ajime Te è Alini appena incontrato, che è lo stesso di Ajime Manste. Ajime Te Atta. Questo qua è quello che avete fatto voi, questa cosa che c'è scritta qua. Ajime Te Atta Toki Mi. La prima volta che l'avete incontrato. Voi l'avete fatto tipo quando incontri una persona di notte, la stessa cosa. Parte qua. Atta. Sempre per dirvi che quello che state studiando ve lo ritroverete a vita. Quindi, mi sembrano cavolate adesso, però poi dite, ah cacchio, quello me l'aveva spiegato quel pirla su Twitch. Allora serviva qualcosa. E questo qua invece è il kanji che piace a, come si chiama, a Fox, che è quello di elefante. E questo qua è il kanji che dice, più o meno. Poio, Nicosta Cotohanale. La miglior cosa da fare è lavarsi i denti. Nicosta. Ah, questo però è diverso, aspetta. Controlliamo se il kanji è giusto. Sì, l'ho scritto giusto, ok. Perché questi due kanji qua me li confondo sempre. Questo qui e questo qua. Perché sono tutte e due costa, ma sono diversi. a meno che non ho scritto male l'altro. Controllo anche l'altro e adesso mi è venuto il dubbio. No, l'altro è giusto, ok. Questi due mi li confondo sempre perché hanno la stessa pronuncia. Questo qua e questo qua. Però se scrivo in modo diverso. Ok, Nicosta. La miglior cosa da fare. La miglior. Verbo, vabbè, verbo ru e verbo nai. L'aggettivo i è aggettivo nai. Quello che scrivo giusto per sport. Dove nai è aggettivo i più aggettivo nai. Avanzi, chi è? Che non ho amici. Non si sente la chat. In che senso? È partita la chat? Ah sì, l'avevo bloccata per quello lì. Avete ragione. Grazie. Grazie Massimo. Eh, l'avevo bloccata perché c'era quello che scriveva le parolacce. Allora ho dovuto bloccare. A parte che non so, non l'ho capito come ha fatto a scrivere cazzi, però. Vai uno che ha il nome che si chiama emorragia. Dei problemi ce li avrà al cervello. Allora, nome. Come siamo stati mutati? Eh no, è perché è entrato uno a dire le parolacce. Allora io ho bloccato la chat. Prima che continuavo a scrivere parolacce. De aru. Poi l'abbiamo bannato e poi come solito mi sono dimenticato di togliere il colpo. Perché è un tasto. Cotto più. Poi abbiamo aggettivo na. Na più cotto. Sì, ho visto che lo hai fatto bannare. Eh sì, perché non mi sembra che era una persona con un cervello. Allora, Ayai. Yasui. Ayai è veloce. Yasui è economico. Shinpin è nuovo. Shinpin. Ricordatevelo che quando dite è nuovo dovete dire Shinpindesca e loro vi dicono questo fratello. E sotto c'è scritto Ciucco che si è causato. Allora, questo Yojin non lo sapevo, me lo scrivo. Che l'ho scritto barando, ho scritto Yoko Koroma e si dice Yojin. Shinpin. Yojin che era, non me lo ricordo più. Shinpin. Shinpin se l'è nuovo. L'ho cercato prima, non me lo ricordo già più. Tipo attenzione o... Precauzione. 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 Tu chiamale se vuoi. Precauzione. No, dipende. Ci sono dei Ciucco in Giappone che sono fantastici. Tipo io quando andavo in Giappone compravo tutti... Vabbè, i fumetti sono tutti Ciucco. A Mandarake li compravi tutti usati. I fumetti, le cos'è che erano... Cos'è che compravo usato? Tipo i Chogokin o robe varie quando trovavi... Naturalmente li vedi se sono tenuti bene e li compri. Se no no. Però in Giappone li tengono tutti come... Le sveglie no, le sveglie le ho comprate... Le sveglie le avevo comprate da Chiambara dentro un... Un po' di quei department store... Cioè di quei negozi... Ma non mi ricordo il nome. Quelli che hanno solo le cose elettriche a cinque piani. Sarebbe meglio che ti porti una valigia leggera... Ma è meglio che sia resistente se no sono cacchi. Don Chiotte... No, Don Chiotte non ci... Pensa che a Ropponghi abitavo davanti a Don Chiotte... Ma non ci vado mai. Perché Don Chiotte è per gli stranieri. Non ci va. È come andare qua al supermercato dei cinesi. La stessa cosa. Allora al department store. Sì, sì, sì. Al department store. La big camera, quelli lì. Big, 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 big camera. Che prima facevano prezzi belli e diversi. Adesso invece fanno tutti i prezzi uguali. Sia che vai da big camera che vai da un altro... Ha tutti gli stessi prezzi. Sia che vai a Tokyo, che vai a Osaka... Che vai a Pinarella di Cervi... A fare lo stesso prezzo... Tanto vale che non giro e lo compro su internet. A me piaceva girare per i vari negozi. Per vedere se trovavo... Non lo so. Magari cercavo... O una macchina fotografica. O un lettore. Noi all'epoca prendevamo i lettori DVD. Robe varie. Quelli che erano sia in PAL che in NTSC. Potevi vedere sia i film in Giappone che in Italia. Naturalmente dovevi avere anche la tela in NTSC PAL. E giravamo. Perché c'erano magari lo stesso articolo. Un negozio ce l'aveva a 10.000. L'altro a 20.000. E lo compravi dove costava meno. O dove c'era l'affarone. Adesso invece gli affaroni non li fanno più. E quindi possono ottenere la loro roba. Sarebbe meglio che ti porti una valigia leggera ma meglio che sia bella resistente perché se no sono cacchi. Visto che ci mettono i quintali di riso dentro. Tabacco. Io tre anni fa cercavo una scheda 32 giga per la macchina fotografica. Volevano 69 euro folli. No, sono fuori completamente. Tabacco. La compri su Amazon. E la paghi 10 euro. Tabacco a 10, no ma 18. Kenko. Come la storia che fanno qua in Italia che c'è tipo. Se vai sul sito di Mediaworld. Infatti non le ho mai presa. Se vai sul sito di Mediaworld paghi 500 euro. Se vai in negozio paghi 1000 euro la stessa cosa. E ti dicono di comprarla sul sito. Allora che cacchio tiene aperto un negozio a farlo. Chiudilo. Waruishi. Marco tutti ti hanno fatto gli auguri eh. Dita. Che ciao. Gli auguri ciao si dice. Che maleducato. Okane. Okane soldi. Si è assurdo. Ma siamo in Italia. Solo noi facciamo queste cose. Okane mo kakarushi. Che poi è la parte bella che se lo compri sul sito. E lo vai a ritirare in negozio. E' quello che ti danno in negozio. E' lo stesso. Non è che te ne hanno il nuovo diverso. L'altra volta ero andato a comprarmi fuori. No ma sul sito paghi meno quello paghi di più. Ok. Allora compro sul sito e lo vengo a ritirare quattro e mezz'ora. Auguri di buona Pasqua Makosan. Ti fanno gli auguri Mako. Eh sta in conferenza. Non siete più. In conferenza in coreano. Che non capisce. Troppo lento. E' la frase che dovete dire a quelli che fumano. Tabacco ha kenko ni warui shi okane mo kakarushi. Yameruni e costa kotowanaio. Il fumo fa male alla salute. Costa soldi. Sarebbe meglio che la smetti. La cosa migliore è smetterla. Poi tre. Tenki yoho. Le previsioni del tempo. Potrei andare a fare la presentatrice del tempo in Giappone. Tenki yoho. Tenki yoho. Le previsioni du tempo. Qua i cinici. Tutto il giorno. Tumori datte. Nuvoloso. Sono cieco. Sì. Tumori. Tumori datta. Allora. Le previsioni hanno detto che sarà nuvoloso tutto il giorno. Ma la cosa migliore per precauzione è portarsi un ombrello pieghevole. Questo era yohjin. Yohjin. Sarebbe Shin che si legge Jin perché suona male. Yohjin suru. Ni. Costa. Io ho comprato il frigo a Median World arrivato a caso L. Ho trovato sul sito a 100 euro in meno. Ho fatto la disdetta e L. Ho ordinato online. È fatto bene. Tanto è lo stesso frigo. Non è che te ne danno uno diverso. È sempre quello il frigo. E' come se si fanno guerra da soli. Capito? È come se si... Oritatami. Sì, infatti lo stesso modello. Infatti io ho fatto la stessa cosa. Quando ho comprato la lavatrice. Sì, non ho andato a vedere le lavatrici in negozio. Poi l'ho comprata sul sito. Tanto sapevo già che costava meno. Però ho detto vado lì a vedere almeno com'è. Almeno ho un'idea. E poi la compro. Alla fine diventa uno showroom il negozio. Non è più un negozio. Però a quel punto non tenere un spazio enorme per niente. Tieni due persone e via. Esatto. Metti non in vendita. Guarda che tu lo... Cioè dovrebbero fare invece che lo puoi comprare direttamente sul sito dal negozio. Capito? Se tu entri in negozio e c'è il tablet e lo vuoi comprare, lo compri e te lo porti a casa e basta. Non c'è neanche più bisogno di commessi. E grazie a me così tutti perderanno il lavoro. Non è che ormai... Allora, Shinpin. Comunque ti hanno fatto gli auguri prima, Giulia. Eri! E' bravo. Nikosta Kotovanai. Ciao. Kosta Kotovanai. Dove c'è che sono qui? Qua. Soria. Shinpin. Kosta Kotovanai. Sarebbe meglio che lo compri nuovo, ma anche se lo compri usato non importa. Shinpin. Kosta Kotovanai. Makosan Makosan. Kosta Kotovanai. E' ormai andata, ve la siete persi. E' passata flash. E' passata a rubare un coso qua, e' andata via. Hanai e Kedo. Perché non riesce a fare due cose insieme, quindi è concentrata solo su una. Demo. E' Kamauanai. Ma è il Matador? Il Matador è dalla vita che è sparito. Era ripassato una volta e poi non si è più rivista. Ho scritto Kamauanai malissimo, niente, l'ho riscritto. Kamauanai. Ok, facciamo gli eserzazi. Ma-su-wa. Tsuma-de-ma-ma-tsu. Uso questo qua finché dura. Na-na-na-na. Poi ho visto che dentro qua ci sono mille altri libri che hanno fatto, ma sono fuori di testa. Non compro tutti i libri che hanno fatto. Mi sembra che pronuncia diversamente se scrivo due volte la stessa parola a parola. Che cosa? Mi sembra che pronuncia diversamente. Ah, no, no. No, dovrebbe pronunciarlo uguale. Dici la tipa? No, dovrebbe pronunciarlo allo stesso modo. Makosan-makosan. No, no, lo dice uguale. E' una tua impressione ottica. Allora, uno, Shacho. Shacho, in teoria, ho messo l'impostazione che ogni persona deve leggerla con una voce diversa. Però non lo fa. L'impostazione l'ho messa. Shacho, che è il testa di capo. Wa. Purezen, che vi sembra che è il regalo, invece è la presentazione. Purezen no. Kamisama. Certo, eh? Bu. To. Ah, il temo. Anche che legge niente. Kagon. Kagon. Dewanai. Odo. Presentation. Eh, fai. Ure-zen-te-tation. Presentation. Sì, ciao. Pre-zen-te-tation. Non mi esce. Perché non mi esce? Perché è una parola che sono inventati adesso. Pre-zen-te. Eh, figa. Pre-zen-te. 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 È giusto, però quando lo scrivi non esce. Pre-zen-te-tation. Boh. Pre-zen-te-tation. A parte che qua c'è un audit di troppo. Pre-zen-te-tation. Pre-zen-te-tation. Ga. Umai. Umai. Umai è anche buono. Ma, allora, il capo è così bravo a fare le presentazioni che viene chiamato che non è un'esagerazione chiamarlo il dio delle presentazioni. Questa è la presentazione scritta in breve. Presente. Vabbè. Il dio delle presentazioni. To-it-te-mo. Dovrebbe essere, sì. poi DOS come quello il programma che si usava tanto tempo fa con e questo non lo so Kanashimi più questo non lo so Najiko dovrebbe essere buono sparo a caso con questo e questo Kanji lo conosco è Sabishiro o Samishi non mi esce neanche Tamishi no Kanashimi Kanashimi questo è il Kanji di Kanashimi ma l'altro non lo so quindi lo segno Najiko però lo segno dopo che ho finito di scrivere Giko Giko è incidente o Ikki Ikki è vivere però non è andare Ikki Ikki Nuita di avere scampato Nuita Nante Nuita brava Corewa Corewa questo qua non lo so Kaki sì miracolo Kaki chissè chi dovevo saperlo chi sia Isan non lo sapevo no Isan dovrebbe essere triste comunque questi qua me li segno sia Isan che Kiseki in teoria dovevo saperlo verso stronzo Kiseki crudele non si può dire non si può dire altro che sia un miracolo questo me lo devo segnare Isan andiamo a vedere cos'è Kiseki in teoria lo devo sapere Isan mi ricordavo Kanashima l'altro no disastro disastro disastroso Isan questo qua è Kiseki me lo segno che sono stronzo questo lo devo sapere invece però me lo so scordato se è riuscito a sfuggire Ikinuitai significa se è riuscito a sfuggire a questo incidente disastroso non si può dire altro che sia un miracolo Igai Igai ok poi tre Misenomai davanti al negozio Misenomai Dekimatte Azumatte 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 riunirsi Azumatte Sawagu Nante e fare casino allora mettersi davanti al negozio e fare casino Egio 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 questo non lo so Egio 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 Bogai Egio Bogai non lo so Bogai Bogai questo non lo devo segnare Bogai però dovrebbe essere Egai quello di fare danno sì però Bogai non lo so Egai no nani monodemolai lo cerco Bogai disturbo 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 al lavoro disturbo allora mettersi davanti a un locale e fare casino significa solo significa soltanto dare fastidio alla vendita praticamente Bogai in teoria lo sapevo però sono stronzo oggi mi perdo i pezzi quindi me li scrivo Bogai poi la risposta che ho messo è demonei 4 onaji monoka una rasse compri la stessa cosa sei pirla no invece no compro sempre tutte le cose uguali perché mi piacciono perché poi ho paura che non ci siano più infatti ho due playstation 3 due playstation 4 e due playstation no due playstation 5 ancora no però di solito tutte le console ho doppia riguardo che mi si rompono e quindi ne compio due quando ne compro due non mi si rompe più onaji onaji uguale mono tu ridi è vero la prossima volta che vieni a casa mia te le faccio vedere ho due playstation 2 due playstation 3 due playstation 4 mi ricordo ancora quando c'era il torneo di metal gear online che mi si è rotta la playstation domenica e sono andato in pigiama a comprarlo al blockbuster e ho preso la versione quella con dentro little big planet e poi no abbiamo solo little big planet non frega un cazzo il gioco dammi subito la cosa che c'è il torneo tutto ammazzo onaji un uomo nuovo caunara perché non avevo voglia di aspettare poi naturalmente mi hanno riparato l'altra e poi ne avevo due a parlare ci appena riaprono le gabbie e si festeggia sì è quello che è quello che è successo infatti sono tutti da parenti e zii cugini a mangiare robe varie o farei infatti vedrai che tra due settimane siamo punti a capo ma sono stronzi loro che hanno detto eh no è permessa una visita e tutti sono partiti la PS5 la PS5 sì ce l'ho non ne ho due ma ce l'ho è qua ce l'ho spenta naturalmente perché non perché non non ci sono giochi ho la PS5 spenta però due PlayStation 4 e due PlayStation 3 e la PS5 non ne ho prese due perché al momento non ci si trova due eh no ma le prenderò due sicuramente io metterei Yasuini Yasuini è meglio se la compri anche perché Gia è tanto che l'hai comprata esatto è già tanto che l'ho comprata visto che non la sto manco usando costa l'accendo pochissimo ah sono usciti i giochi poi quando fai il container ne fai due eh esatto è quello il problema che è doppio tutto è doppio eh no poi quando farò il container le mando una qua e una là solo che il problema è che non le posso mandare in Giappone perché hanno l'attacco italiano mi sembra che non funzionano cioè forse la 5 sì ma la 2 la 2 sicuramente no ho anche l'adattatore della 2 perché ho quella giapponese qua ecco la 2 me la posso portare perché ce l'ho di giapponese se compri la stessa cosa sarebbe meglio che la compri economica giusto direi qua è Yasuini poi 5 Yoru Osoku 5 Yoru Yoru Osoku la notte e tardi Osoku 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 Ni Tazunete Tazunete sono andato a visita no perché il cangio è diverso Tazunete ci sono gli adattatori da 110 a 220 volt sì no ce li ho anch'io sì li conosco però devo comprarmi mille adattatori devo comprarmi mille adattatori siamo pazzi Tazunete faccio prima comprarlo comunque poi se tornerò qua li ricompro quindi continuerò a comprare la roba all'infinito i Joshiki infatti la spesa più grande sarà che mi devo ricomprare tutto i Joshiki e poi ho il videoproiettore tutte quelle robe la cosa che mi pesa di più è il videoproiettore perché mi piace vedere le cose grandi forse esiste un trasformatore più grande i Joshiki ni allora i Joshiki nito i te mo i gai no mononi ma non hai però devo leggerla fa ioroni tazunete coronante si qui puoi mettere più roba su i gai no mononi dei monai allora arrivare alla allora venire a trovarmi a notte fonda si può dire altro che sia un fastidio è soltanto un fastidio i gai i gai no no animo metto questa se non è giusto non è altro che un fastidio non è altro che mettiamo non è altro che non è altro che non è altro che un mi piace di più non è altro che un fastidio che mi viene a trovare a notte fonda vabbè dipende se è una bella gnocca può anche venire a notte fonda cinque quale risposta è nani monote così questa è la risposta poi sei giusta potrebbe essere anche sbagliato con atari ua mici ga se mai no visto che in questa zona la strada sono su torette con o atari atari magari vi ricordo sempre che atari è sempre magari ua mici mici e su to rada mici ga se mai e su to retta se mai no de yukuri yukuri e lentamente yukuri unten unten e guidare unten suru unten suru nicosta kotogana nicosta kotogana visto che le strade visto che in questa zona le strade sono su torette e sarebbe la cosa migliore che guidi lentamente asakara bischetto tocohi nireteta berunante itagliagin igai nanimo demonai dalla mattina mangiano caffè biscotti pucciandoli mangiano i biscotti pucciandoli nel caffè non si può dire altro che sono italiani giusto atelier atelier quale risposta è nicosta kotogana spero allora poi abbiamo sette conni isokashiku sono sempre impegnato sono così impegnato non vedo una fama scimmattano e niente continuo a spostarlo jibun no sei è colpa mia jibun no sei è colpa mia però sei non si scrive sei è quello lì jibun no sei senza niente jibun no sei igiai no nani monodemonai nani monodemonai nani monodemonai nani monodemonai allora non posso dire altro che è colpa mia se sono così se sono sempre così impegnato vabbè sette otto come il maco che si mette a fare cose che nessuno gli chiede internetto intanetto che è internet intanetto intanetto wat watashi taci watashi taci no sei cazzo modo di vita sei cazzo wo cosa non lo so ichi come si dice ichi è pazzo questo lo scrivo così e poi lo controllo non so come si pronuncia ichi e e questo non lo so pronuncia allora nyonjinwa atara su non dei pazzi non si può dire altro che sono pazzi perché lavorano tanto com'è che ti chiama patatino chi è che mi chiama patatino atara canai nikosta cotonai è meglio non lavorare il sole atari mai insassità a me non lo so dipende dipende dal momento insassità il temo l'altra volta mi ha chiamato tipo Orsettini l'aveva registrato come l'aveva registrato mi sembra Dani no no l'aveva registrato Dani c'è una clip che ha fatto Dani non so orsettino della pizza una cosa del genere l'orsetto della pizza ma anche no il temo cagon 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 de mo cagon de cagon cagon de monae dovrebbe essere cagon de monae cagon de monae tesoruccio come l'amor eh no non mi chiama così non è esagerazione dire che l'internet ha cambiato il modo di vivere di tutti però questo qua come si dice ipen va affanculo ho detto ipen ipen giusto ipen giusto ipen adesso me lo segno il mio kanji preferito ho sbagliato vabbè ipen anzi mi segno anche questo il mio kanji preferito ho detto icn invece era ipen vabbè allora non è assurdo dire cioè non è un'esagerazione dire che internet ha cambiato il nostro modo di vivere ok e la risposta però ho messo de monae qua invece cosa ho messo nanimono devanai nanimono devanai nanimono devanai nanimono devanai nanimono devanai vaffan 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 iuttene iutas e zannendes shinjira shinjira erenai iutta arienetsu no iutta arienetsu no beviamo l'acqua poi ha detto lezione corta alla fine è sempre due ore ci metto e doveva essere una lezione corta bene ma sua suma demo mi è uscito un vaffa no non dico mai è lui che ha detto non mi sono accorto no no non l'ho detto lui ha detto non l'ho 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 detto aiuta che dovevo solo l'ho aiutene aiutene aiutemaseen ma ma allora da qua il capo è così bravo a fare le presentazioni che lo chiamano che non è che non è una generazione dire che sia il dio delle presentazioni carinante carinante iuteno cari che aiutano vaffa iutenei tomo da caravattascio aiutano vaffa iuteneo solida che dice schasho 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 immagine in line stuohenda è stupenda è bella è l'orso della pizza uno schasho 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 wapurezen sembra regale invece è presentazione scritta in modo corto prezen prezen no kamisama il dio delle presentazioni kamisama ho sbagliato a scrivere sempre kamisama toitemo kagon kagon non è un'esagerazione kagon dewanai odo come se non fosse un'esagerazione dire che è il presentazione kamisama allora è così bravo a fare presentazioni che non è un'esagerazione dire che sia il dio delle presentazioni vabbè prezen tation pu pre present ho scritto sbagliato prezen tation ga umai umai si dice anche per dire buono però umai in questo caso è bravo konani hihan isan isan vabbè ho sbagliato il primo canji lo so è quello di kanashi tristezza però l'altro no nagiko incidente isan disastroso tragico tragico incidente gigo gigo incidente gigo ikinuita significa che l'hai scampata sei rimasto vivo sei scampata vivo sei scampato a quell'incidente terribile o tragico kore wa kiseki igai nanimonodevanai qua scriviamo come ho scritto prima se non capisco più niente questo è solamente un miracolo un miracoli o un miracolà kore wa kiseki che il suo stronzo non lo sapevo leggere teoria lo so kiseki 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 igai igai no mono non nanimonodevanai non si può dire altro che sia un miracolo che l'hai scampata a questo incidente terribile missenomaide azumate sawagunante e egio non me lo ricordo egio bogai igai non nanimonodevanai perché aspetta c'è qualcosa che non mi torna che qua dice demonai lì dice deoanai c'è qualcosa che non mi torna ah si perché sono diversi giusto giusto stavo impazzendo allora mettersi davanti al negozio e fare casino non è altro che non è altro che disturbare la vendita misse no mae davanti al negozio di azumate riunirsi azumate 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 se sawagu e fare casino sawagu sawagunante egio egio che è lavoro o vendita egio bogai questo lo devo scrivere bogai disturbo disturbo igai no nanimono gemonai no aspetta se compri la stessa cosa sarebbe meglio che la compri economica più economica 4 onajimono onaji mono o kaunara si compri la stessa cosa yasuinì economica yasuinì costa foto guanai poi yoru osoku nita zunete e corunante i joshiki igai no monode monai venire a notte fonda a trovarmi non è altro che non è un'assurdità ma è una rottura di maroni aspetta che non mi viene in mente più la parola ma su un'assurdità è assurdo è assurdo mi viene a trovare a notte fonda dipende se sei una bella gnocchera puoi venire quando vuoi 5 yoru yoru osokuni tazzunete urunante venire a notte fonda a trovarmi i joshiki igai i joshiki igai ci giuseppe ferrari in che senso giubunde italia ginno stereo tape a stereotipo spiegate a lui una cosa stereotipi degli italiani se qualcuno sa watashi stereotipo wakaranai kotoba jida kotoba shidei wakaranai chi è giuseppe ferrari pizza mafia mandolino e ma e loro per invece per i giapponesi noi diciamo sempre mamma mia non so perché mi fa scrivere gli italiani hanno i baffi no non è vero che gli italiani è come mario bros dici mi fa scrivere no sen che ho dato tutto stereotipi sono cose non vere che pensano sia vere è uno stereotipo mamma mia che noi diciamo sempre mamma mia quando incontravo i giapponesi mi dicevano sempre ah italiano mamma mia tutti mi dicono mamma mia non so per quale motivo perfetto o casan casan allora poi abbiamo aspettate che mi sono perso il guy ma non ho capito vuole sapere cosa sia uno stereotipo o quali siano gli stereotipi voleva sapere quali sono gli stereotipi è giusto quello che stai facendo è giusto è giusto quello che stai dicendo i gioshiki i gioshiki guy guy no nanimo no cosa hai mandolino nanimo no mandolino ha mukashi no guitar mandolino è una chitarra no tipo una chitarra napolino ho chitarra io sono solo senza barba max ha la barba come alex no io devo tagliarla la barba c'è la bianco c'è la bianca boh che non facciamo niente ci proviamo con tutte siamo tutti mafiosi abbiamo tutti ho solo il mento bianco ho solo il mento base 4200 mando su discord ok guy demonai la devi tagliare perché tua mamma ha detto che fai schifo esatto infatti la voglio tagliare perché poi chiamo mia mamma per fargli gli auguri in maledetta nintendo di merda la devo fare in come si chiama devo fare la telechiamata cioè la chiamata col video quindi me la tagli lì dice che non sa che gli italiani hanno la barba esatto la videochiamata bravo non veniva la parola con Atari non mici gas e mine non è visto che la strada qua è su Toretta con Atari Michi gas e mine gas e mine Michi gas e mine no de video telefonata yukuri unte videochiamata anche unte ne guidare unte insuru nicosta nicosta foto visto che in questa in questa zona visto che le strade sono su Toretta sarebbe meglio che guidi lentamente con Niso Kashi 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 no scherzo io uso solo le cose giapponesi no soprattutto perché Whatsapp lo usano tutti e se io mi metto su Whatsapp mi iniziano a rompere le balle tutti e quindi non mi metto su Whatsapp apposta per non avere le rotture di moroni mia mamma l'ha in sigla l'ho messo io praticamente c'ha solo me Nateshimatta infatti se mi volete contattare sono su lei invece su Whatsapp non mi trovate perché apposta non l'ho mai messo anche perché se no tutti quelli non so al lavoro alla gente tutti che mi rompono i maroni infatti apposta anche al lavoro mi dicono ma metti Whatsapp no perché se no poi anche mentre sono a casa mi rompi i maroni invece no Gbunno 6 apposta non l'install Igai Igai l'ho installato Line che non lo usa nessuno invece in Giappone installerò Whatsapp perché non lo usa nessuno infatti anche quando vado in Giappone sono su Toronzo e non parlo in giapponese quando vado in Giappone parlo solo in italiano e tu dici ma hai studiato il giapponese per cosa? sì ma apposta davanti ai giapponesi io parlo in italiano in modo tale che capisco loro cosa dicono ma loro non capiscono quello che dico io tanti auguri di buona Pasqua non so se l'ho scritto giusto non so se ci vuole la GL o no però mi importa ti mando anche a te gli emoticon che ho mandato a a Massi che piace tanto allora sono così sono diventato così occupato non posso dire altro che sia colpa mia l'icona che ti ho mandato a te prima su Line l'ho mandata adesso secondo me gli italiani di solito fanno sciopero quello è vero lo dicono sempre quando vengono qua Italia Gingia è anche te metrò a Itzumo Strike Milano di Itzumo Strike questo ha ragione perché anche il mio capo giapponese dice in Italia sempre sciopero sempre sciopero c'è il mio capo il mio ex però vado in Giappone vai sciopero qua sempre sciopero quello c'è ragione poi stranamente da noi facevano sciopero i mezzi sempre il venerdì perché poi fanno attaccano sabato e fanno il weekend lungo sempre venerdì c'è sciopero internet Watashi Tachi Watashi Tachi mamma mia non so scrivere Watashi Tachi non so scrivere Watashi Watashi Tachi No sei cazzo modo di vivere Sei cazzo Sei cazzo Sei what o Ippen Ippen adesso mi è venuto in mente che sia Ippen Sasseta sta cambiando allora internet non si può dire altro che abbia cambiato il nostro modificio però in un giorno diverso Esatto perché infatti quello che ho sempre detto io perché non lo fanno martedì o giovedì no sempre il venerdì casualmente e sempre e poi d'estate soprattutto tutti quasi tutti i venerdì c'è sciopero certo perché perché vanno vanno cioè perché poi tu dici vabbè sono quelli che guidano i mezzi no sono quelli degli uffici che vanno fanno il long weekend quindi si inventano gli shop dicendo che sono quelli che guidano che vogliono più soldi invece sono quelli degli uffici che vogliono semplicemente andarsene al mare nel weekend e vabbè internet allora internet non è un'assurdità dire che internet ha cambiato il nostro modo di vivere top tac tac però devo controllare non lo controllare alla fine due ore lezione corta se 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 va bene in Giappone sono sempre in Mazzuri no Mazzuri si fa solo d'estate se vai d'estate si non fanno sempre Mazzuri Mazzuri a me piace mi piace fare il Mazzuri perché vado in giro vestito da giapponese in mezzo ai giapponesi che mi guardano male perché dicono ma tu non sei giapponese e io gli dico dimostramelo dimostramelo che non sono giapponese quello lo dici tu allora a 8 abbiamo b a b 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 ecco e già sto guardando l'esercizio sbagliato b a b b b b i temo a i gai mi hai messo in quarantena un messaggio e b asuini mi hai messo in quarantena un messaggio in che senso io no no ah no allora festa nazionale ma tu ridi ma tu ridi è youtube cioè ma dai nazionale nazionale non si può scrivere nazionale nazionale mazzurida mazzurida eh watashi tamayash wakaranai quando sparano i i non lo so chiediglio la twitch ehm quando sparano i fuochi d'artificio ricordatevi che dovete dire tamaya e poi fa quando lo sparano prima che sparano lo fa automaticamente eh è su toronzo twitch non lo so allora b a b allora b a b dalla 5 b a b i gai no nani monò ramayash tamayash no ramayash tamayash come palla tamayash nikosta kotoanay nani monodemonai e l'ultimo è dewanay ok beh almeno questo era un faccio non potevo sbagliare almeno quello niente allora ci si salutazza vi spedisco da da Tommaso anche se sarete già lì però va bene lo stesso e ci vediamo alle due vi spedisco da Tommy con me